musica 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 mincella esti a forse ho scoperto della scomparsa luna o grazie al cielo da quando ho sfruttato quello specchio magico una settimana fa quando vi sarai scomparsa è stato difficile Dice, raccontami tutto, ho trovato alcuni diari nella biblioteca di Statue, sotto Canterlot, a quanto pare quello specchio conduce in un altro diverso parallelo, oltre a quelli in cui sono già stata, non è incredibile? Lo so, ma, no, lo è, ma come faccio a passare verso lo specchio per trovare Celestia? Beh, in effetti sono ancora cercando di aprirlo, forse è saltato accidentemente qualche appendice. Beh, in effetti sono, ah, mandatore, mandatore Sparkle a ricontrollare il dialogo di Stars World. Ok. Allora ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono pochi e oggi siamo tornati, oggi siamo qui, tornati su Magister Pony, oggi siamo tornati qui su Magister Pony Magica Elohina. Nella scorsa parte abbiamo fatto, eh, boh, non mi ricordo cosa abbiamo fatto, vabbè, andiamo avanti. Ok. Attendiamo. Purtroppo non possiamo, purtroppo non possiamo, adesso con un biglietto per il teatro. Ok. Sto schiacciando a caso, eh, con gli occhi chiusi. Ok, in dettaglio, 94 monete e un, una, una, una fetch up. Boh. Spero che Twilight si scopri a quello che sta succedendo in fretta, perché, aspetta. Celestia sta trovando lo specchio. Eccoti qui, Celestia. Dove sei... Oh no, sei ferita. Dove sei stata? Cos'è successo? Io sto bene, è di un altro mondo, un mondo molto simile al nostro, ma anche molto diverso. Sombra è vero di quelle queste, e Leon su mano buona di te per i suoi pony. È accaduto qualcosa, però, che sta avvicinando troppi nostri mondi l'uno all'altro. Dove trattare di Sombra quanto il mare sta iniziando a sconfiare il nostro mondo, lungendo fino a me. Allora andrò in questo altro mondo e scominò a qualunque un amico che ti abbia fatto questo. Sono mesi che aspetto una bella colluttazione. No, Luna, non possiamo andare, perché siamo noi il mare che sta attaccando con le terre. Siamo noi cattivi. Tu hai le Sparkle, tu e i tuoi amici adesso è al nostro posto. A combattere trezza, sorella. Non so se potrei farvi del male, che siete buono o cattive, ma farò del meglio per aiutarvi. E guardatevi tutti per essere attrappato quello specchio, abbiamo un lavoro da fare. Ok. Tocca il posto, raccoglie i zafferi, potenzia. Ok. Ah, ok. Recupera uno ogni undici minuti. Ok. Ah, c'è, ha 118. Sì, 118. Ah, no, hanno due a 118. Ok. Ok. Ah, ok. 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 Va bene. Ah ok 107 Ah no Ah no 107 Qua sono i 111 Ok Vabbè Vabbè Abbiamo proprietato anche il Cosa di Anche Gli incantesimi Gli incantesimi di Discord Oh quasi sarà uno spasso Un daconex inutile e un mago celatano Un momento Che roba è quella Non so perché mi mettono sempre Spike Al posto di Degli altri personaggi Però vabbè Devo dire che è stato davvero uno spettacolo Ehi Quasi sono solo delle scenette Il numero deve Deve ancora venire Vedrai Tolax Da lui mi crea un'idea E' fantastico Però non ce la vuole un po' su Qualunque sia la tua idea Manda Tolax A spaventare T-Dec Ok Ah ok Ah ok Soltanto Ah ok Soltanto T-Dec Soltanto Vabbè 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 Vediamo un po' Ok Giochiamo a rimbalzo Con Sassi e Scimbers In effetti Vediamo un po' Quanti minuti siamo Ah ok Ok Non siamo Ok Sì Sono sicuro che ci giocavi alla cantella ottaica Sbaglio va più veloce Dannazione Ho perso Il ritmo Ok Vediamo un po' Se abbiamo Ah no Ok Aspetta Prima recuperiamo i dindini Ok Ottimo Sassi e Scimbers Dove ricordarsi che giocare è importante quanto studiare Fantastico Spero che un po' di giochi di divertimento evitino Sassi e Scimbers di studiare troppo Porta Sassi e Scimbers ha due stelle Sassi e Scimbers cerca sempre di essere la migliore Non dovrebbe essere un primo a darlo una mano Ah 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 tu Ah A cinque stelle Vabbè Vabbè Andiamo a cercare Andiamo a cercare mutanti Andiamo a cercare mutanti Ok 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 abbiamo Fluttershy Applejack Ok 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 Ah, ok. 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 Va bene. Ah, devo arrivare a 1000. Ah, ok. 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 Di un po' ci sono altri mutanti. In azione. No. A quanto sembra no. Ok. 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 però... non ho la niente non ho la niente non ho la niente ok vediamo un po' se ci sono altre ok 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 a quanto pare no non ci sono altre bacce ok a quanto pare non ci sono altre bacce vediamo un po' se... allora... come ultimo vediamo un po' qua se ci sono formate delle... delle colline arcobaleno vediamo un po' qui ok no... a quanto pare no... vabbè... io direi che per questa parte può essere tutto spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao